salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo in una location perché mi è piaciuta davvero un sacco ci troviamo ad arona sul lago maggiore non ero mai venuto da queste parti del lago maggiore e ragazzi è tanta tanta roba e per farvi vedere la bellezza di questo posto oggi voleremo con dj mini 2 sì perché come al solito io porto sempre più di un drone con me ho dj mini 2 e avsan zino mini pro ma dopo tanto tempo di inutilizzo ho deciso di fare cinematiche video con lui il dj mini 2 qui ad arona ovviamente la parte bella è la passeggiata sul lago con tutti i bar c'è veramente molto molto carina l'acqua del lago bellissima infatti è bandiera azzurra quindi l'acqua pulitissima e poi c'è una rocca con un parco e la rocca è una rocca voluta dalla famiglia borromeo purtroppo non è rimasto tantissimo rispetto a quello che era all'origine quindi ragazzi direi che comunque abbiamo parlato fin troppo e iniziamo questo cinematic video qui ad arona sul lago maggiore e se il video dovreste piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram e se vi va iscrivetevi al mio canale 3 gom offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia al mondo dei droni ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao al prossimo video grazie a tutti Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!